Masdraoui, passaggio splendido, una chance, ci prova, bellissimo gol della Ciapecoense, partita vivissima che ora ha cambiato dominatori, bravi e nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete questo è un gol di pura caparbietà, era pressato, ha resistito, ha fatto largo trovando spazio per tirare 18 minuti del secondo tempo per il giocatore, camisa 7 è il momento dei cambi